... Avete presente l'intro di Youtube? Cioè il classico Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Ci siamo tra 3, 2, 1 Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo, freschissimo video Ok ragazzone ci siamo Siamo finalmente usciti dal palco dell'Acqua Fan E siamo qua ragazzi per decretare il miglior rimorchiatore in famiglia Chi è primo? Allora ragazzi si arriverà a 5 baci presi oppure 5 volte in cui si verrà scelti Il bacio in maniera particolare vale 2 Quindi ve lo dico già, ok? Quindi potete avere la possibilità di portarvi in vantaggio Ad andare a 2 con un singolo bacio Ragazzuoli, siete pronti? Qua abbiamo Enoca La squalla Non lo sai regà Non lo sai regà Non lo sai regà Non lo sai regà Affrodite Bene, bene, bene Ok Eci fuori dalla scena Poi abbiamo la cacca La cacca Ok, ok ragazzi Poi abbiamo il vincitore della scorsa sfida Isaac Andiamo, andiamo Poi abbiamo il più importante della famiglia Ovvero Samuele No, 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 no Ha detto Samuele Bene Tenta che sarei più fortunato Dai, smettila, smettila Andiamo avanti Io vero Peter Con quali doti e tensioni di rimorchiare oggi? Ehm Volando Con tutte, tranne le vostre Altro fratello maggiore Michael Sentite qua Sentite L'uomo della vittoria E poi Edward Che vabbè Sei già presentato Adesso sta gonfiando i braccioli a Peter Non è una gara di nuoto Ma Almeno questi sono muscoli veri Anzi Scrivetemelo qua sotto nei commenti Se volete una gara di nuoto Tra fratelli E vedere Chi è il nuotatore in famiglia Chi annega per primo tra i fratelli Grandissimo contenuto Detto questo ragazzi Adesso Andiamo subito a scovare le nostre ragazze Quello che fa di Riccione E vedere Chi è il rimorchiatore in famiglia Siamo carichi E allora andiamo Riccione Oddio 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 Ma cosa succede qua ragazzi? Non abbiamo una new entry Ma chi sei? Ah La scorsa settimana mi hanno chiamato Perché devo benedire un matrimonio Ah ok quindi il tuo ruolo sarà quello di benedire i nostri baci Ok quindi la sposa e lo sposo E come ti chiami? Mi chiamo Ferdinando Ma pastore dov'è la sua bibbia? Visto che la bibbia ce l'ho qua in testa Io direi che può condurre lei questa gara E ci faccia una benedizione prima di andare dalle ragazze Ah io guarda ragazzi io ce l'ho già Padre, figlio, spirito santo Nice to meet you Nice to meet you We are a youtuber Really? Yeah Today is your day baby Ah ok Ma l'Aquafone oggi è il 6 agosto 2022 I have here two beautiful ladies that are available We are doing a challenge They are all brothers They are 7 1, 2, 3, 4 They have to try to gain your heart Ok You know something like that Yeah with something love Il pastore gli ha spiegato un po' la challenge che stiamo facendo oggi E adesso iniziamo con il rimorchio Pastore possiamo iniziare? Possiamo iniziare Otto io Parto subito io ragazzi Ok Nice to meet you Hello My name is Samuel In Italia I am famous because I eat everyday rice and chicken Do you like rice and chicken? Do you like rice and chicken? Ok Ok We can go to pick rice and chicken With me With me no? Together Together Yeah together With this guy Or do you prefer one of us like me? So that you are a very cool dancer so I prefer to go with you Hi I am Michael Freeman Hi And there is a little problem in my phone I don't have your number Oh Hi Hello My name is Sadie Oh If you like to vote me I am number 10 Oh If you like to vote I have the muscles Oh Hi I am Peter Hi Peter You see that ink? This is you This is me Oh Oh La caca Hey 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 Hi my name is Manuel Did you froth in heaven when God created you? Oh Because you are so beautiful Oh La caca Ok My friends what do you think? Oh Boy I think that we like gym boys So Wait Wait Gym boys Presentate I I My name is Enoch If you want some I give some Ok 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 So We have seen the challenge now Now it's up to them to choose I want to try the last attempt Last one You know because I have space In my asses Oh my Because You are my son Oh 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 Give us the time So we will decide We think that The translator A boy Is the best guy Here Like you I stole your heart So Wait Wait Give me a kiss Ok 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 Ragazzi il pastore non ha gareggiato e rubato la scena a tutti C'è questa cosa dell'incredibile Siccome se ne è meritati perché alla fine è venuto bello Pastore c'è a due Ragazzi andiamo alle prossime ragazze let's go Ok ragazzi siamo qua con la seconda scena di quest'oggi due altre bellissime ragazze siete italiane? Ok di dove? Roma Roma Oh Rome is beautiful You know? È già iniziata la gara di rimorchio però sono da solo ho bisogno dei miei fratelli che compariranno tra 3 2 1 Wow Quindi noi ci presenteremo e poi dopo alla fine dovete scegliere il migliore Chi si è presentato meglio oppure con chi uscireste potete anche dirlo Ciao ragazze io mi chiamo Isaac Dei fratelli io sono il miglior ballerino E se deciderete di scegliere me la nostra vita sarà tutta una danza E se deciderete di scegliere me la vostra vita sarà tutta sostanza Oh ok Ci sta Ragazze credete nell'amore a prima vista o dovrei andarmene e ritornare Allora? Allora com'è? Aspetta aspetta Ho gli occhi azzurri Sono nero Ciao ragazzi Ciao ragazzi La caca La caca La caca La caca Per me sarebbe privilegio fare spassare il cuore da voi Ragazzi siete bellissimi La caca Ok Io vorrei dire un altro cosa Che il mio cuore si è aperto all'incrocio dei nostri sguardi Oh Il prossimo Vieni qua Già lo sapete non scherzo raga Ok già lo sapete Ok Come ti chiami? Mi chiamo Enoco Enoco la squadra Bene Se seguite me vi portare in paradiso Oh Ok I fratelli a Fria si sono presentati Adesso la scelta È alle ragazze La scelta? Io non mi credo che sia lui 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 Michael Oh Primo punto per Michael signori Oh Primo punto per me Quindi siamo uno Uno e il pastore due E tutti gli altri a zero Avete la possibilità oggi Un po' come il bonus Di dare un punto in più ad una persona Se scatta il bacio in guancia Si Regalato A lui Oh Ok Oh Bene ragazzi Michael vola a quattro Sei in finale di Champions League Siamo grande Adesso bisogna solo che recuperare Quindi andiamo ragazzi Ok ragazzi siamo qui con un'altra bellissima ragazza Da conquistare Ok Noi dovremmo cercare di conquistarti E tu dovrai scegliere il migliore Ok Come ti chiami? Ilaria Ilaria Bellissimo nome Ilaria Grazie Quante anni hai? 17 Ok Ok Se vuoi ti potrei portare a cena Mangiare fuori riso col pollo Ti piace il riso col pollo? No No Cosa hai appena detto? No Vabbè io ho finito Ilaria 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 Mi manchi come l'aria L'aria Manchi come il sole Scegli questo nero Mi manchi Ilaria No Se potessi mettere a posto i verbi Metterei tu ed io insieme Oh Proposta Era carina questa Mi chiamo Edward Ilaria Delle monete I giochi delle monete Il gioco delle monete Ti piace? Tipo Io lancio Testa Tua Croce Sei mia Testa tua Croce Va bene Va bene Va bene Ok E croce E croce La caca Deve sapere che stare con te e tu cioè che vuoi E io vorrei dire una cosa Che quando ti ho visto ho pensato subito a una stella caduta dal cielo Ohhhh Perché non ti piace il disco col pollo? Non ti fa impazzire Non ti fa impazzire E che cosa ti fa impazzire? A parte me Non lo so Fini me basta Basta Diciamo Secondo te tra i fratelli ha agito meglio Chi ha agito meglio Secondo te tra i fratelli? Lui Io Ok Samuel è il vincitore Questa volta ho vinto io Allora Un bacino sulla guancia Allora Riso col vollo ti piace? Facciamo un piccolissimo recap Io sono a due Peter Ancora a zero Michael Potrebbe avere il match point definitivo perché ha quattro ragazzi E il resto tutti a zero Quando ti vedo mi viene in mente il mare Lo sai perché? Ogni volta io mi bagno di sudore Ciao io mi chiamo Peter A te piace l'acqua? Si Quindi Ti piacere anche il mio 70%? Ma dove le trovi? Ma per caso ti chiami Google? No Perché sei tutto quello che cercavo Ciao Gira Pesce Ready Oh che bel ringo Forse saremo un po' effetti insieme Oh Oh La caca La caca La caca La caca La caca Per caso paghi l'affitto? No Vieni a vivere nel mio cuore Non paghi l'affitto Oh La caca Oh Come va? Tutto bene? Sei così bella che quando ti guardo rimango senza parole Oh Quindi adesso la scelta sta a te decidere chi si è presentato meglio Non ci vuoi pensare? Ci vuoi pensare? Uuuuuh Oh Oh Possiamo aggiungere un'altra cosa Tra i sette fratelli Chi vorresti dare un bacio sulla guancia se potessi scegliere tra i sette? Lui Siamo Ok Ok Quindi abbiamo due persone Ok Ok Uno Ok Uno ha il vincitore Siamo qua per decretare la finalissima Ovvero Tra Me Samuel Michael E Isaac Questo punto vale tutto Ok questa scena vale tutto Hai paura? Non ho paura Io sono carico Ragazzuoli siamo qui con l'ultima scena di quest'oggi E siamo qua con una mamma Una ragazza che ha già partecipato in questo video La mamma di Ilaria ragazzi Buon sangue non mente ragazzi mi verrebbe da dire A lei piace il riso col pollo? Sua figlia non tanto A lei piace il riso col pollo? Sì 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 Wow Molto molto bene Alla mamma Che si chiama? Carolina Alla Carol Piace il riso con il pollo ragazzi Signora io sarei disposto A trasferirmi in Abruzzo per lei signora Perché dal primo momento che l'ho vista Lei mi è sembrata una bravissima persona E a me piacciono le bravissime persone Hai un bellissimo nome E siamo qua di fronte a questa bellissima mamma E guarda le assicuro che io sarei un ottimo figlio Figlio figlio? Nel caso in cui volesse adottare un bimbo nero Wow Ma che robot? Ma che robot? Adesso la scelta va a lei A me? Sì Chi si è presentato meglio Deve scegliere Sono tutte estrempelli Dai dai Mia figlia deve decidere Sì ed è La prima scelta non si cambia mai E quindi La prima scelta non si cambia mai E quindi 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 Signori Il king Di Rimorchio in famiglia Afri è Of Samuel Allora però Vi potete consolare Dalla mamma Che è anche la mia Quindi andateci Ragazzi il rimorchiatore in assoluto In famiglia sono io Perché sono fa Perché sei famoso su youtube Sennò Peter Non lo vedete Non c'è perché In realtà ragazzi Fa molto ridere la cosa Perché Peter è riuscito a rimorchiare off camera Un gelato Assima una ragazzina E quindi sta prendendo un gelato Assima una ragazzina Adesso magari scoverete le immagini su instagram Andatemi a seguire Off Samuel E seguite tutti i ragazzi Qua presenti nei loro profili social Ragazzi Detto questo Io vi saluto Questo video si conclude qua Lasciate un like Lasciate un commento qua sotto E fatemi sapere La prossima sfida Tra sette fratelli E dato questo Ci vediamo in questo video Ciao